ok il mio prossimo desiderio magico sarà qualcosa di molto speciale ah ma chi voglio prendere in giro sono stati tutti molto speciali ma quale potrebbe essere il prossimo desiderio Harold cosa è successo? vuoi la versione lunga o quella corta? quella corta mi sono rotto e la versione lunga? mi sono rotto beh mi dispiace Harold il problema è che devo portare questa consegna sulla terraferma il primo possibile e il ponte ha rotto ah che sfortuna ma penso di poterti aiutare desidero essere un elicottero sulla terraferma giusto? ci arriverò in un secondo fai attenzione è molto pesante amo essere un elicottero è pesante eccoci ci siamo quasi solo un attimo ce la posso fare ecco fatto spero che thomas stia bene thomas è stato fantastico ce l'hai fatta e non è finita ho portato il meccanico per aggiustarti oh thomas sei il migliore ti auguro il miglior compleanno del mondo è stato semplice è stato semplice tutto e ho capito Grazie.